Signori, bentornati in un nuovo video flash. Canto del cigno per il rosso. Infatti ieri mattinata è stata divulgata la notizia ufficiale da parte della Bandai in persona che ha introdotto quattro nuove carte, tutte della stessa tonalità, nella propria lista di bandite eliminate. Partendo da queste ultime, Marco Accosto 5 ha raggiunto il suo omonimo Accosto 4 vedendo la sua presenza imposta dalle alte sfere ridotte ad un singolo pezzo per deck. Mentre per quanto riguarda tutti coloro che sono stati letteralmente messi al bando, vediamo il nome di Nami, di Dadan e di Barba Bianca, Leader. Quindi papà è stato a tutti gli effetti cancellato dal meta. I sercini fondamentali dei mazzi rossi più forti come Zoro, Trafalgar e lo stesso Barba sono andati perduti e la fenice di OP03 è stata ridimensionata come la sua controparte blocker apparsa per la prima volta in OP02. Tutto ciò avrà comunque delle ripercussioni non solo nel gioco, ma anche per i prodotti in uscita nel mercato nei prossimi giorni. Partendo ovviamente dallo starter 10 dei tre capitani, dove ci sarà letteralmente un quartetto di carte morte, vedasi le Nami con immagine alternativa, che rappresenteranno una presenza nulla. Mentre per il gioco, personalmente ho optato per il rimpiazzo con l'event in due anni all'arcipelago Sabaudi, anche se, a differenza della navigatrice, in questo caso si potranno andare a cercare solamente character contratto Strohub Crew, invece che ogni tipologia di carta. Per Trafalgar, Rosso Verde, invece, e lo stesso Zoro, duro colpo atto a rallentarli, così da favorire una diversità di leader nel meta futuro molto più simile a quello asiatico. Mentre per Barba, questo ban ha rappresentato a tutti gli effetti per lui una Marineford 2.0. Mentre per Luffy Rosso ed Ace, sto lavorando in questi giorni ad una versione picchia duro del mio fido cappello di paglia, e lo testerò nei prossimi giorni per saggiarne le potenzialità. E la cosa curiosa sarà che, attraverso la sostituzione di poche carte, la lista che ho escogitato sarà valida, o almeno lo è sulla carta, anche per pugno di fuoco. Sarà un successo? Un nulla di fatto? Vi terrò aggiornati non appena avrò più dati da mostrarvi. Concludendo, non sono mancate le lamentelle al riguardo, e vorrebbe vedere, dato che potevano semplicemente limitare sia Name che Curly senza dargli il ben servito, ma di opinioni ce ne sarebbero infinite, e tutte allo stesso tempo risulterebbero, sia esatte che sbagliate. Resta il fatto che il dado è stato tratto e la decisione è presa, quindi spetterà ad ogni giocatore incallito di rosso scoprire modi alternativi per far tornare questo colore temuto in ogni angolo dei Sette Mari. E voi, come avete preso questa notizia? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Inoltre, iscrivetevi al canale e seguitemi anche su Instagram e TikTok se vorrete scoprire altre notizie provenienti dal crogiolo. Grazie. Grazie a tutti.